Isolamento più breve di soli 5 giorni per i positivi asintomatici e anche in assenza di tampone negativo. Il Ministero della Salute ha emanato la circolare che aggiorna le modalità di gestione dei casi e dei contatti Covid. Come previsto nel nuovo decreto, per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che comunque non presentano sintomi da almeno due giorni, l'isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare. Il 31 dicembre è stata emanata una nuova circolare sui casi, sulla definizione di casi, su come trattare i casi e anche siamo di nuovo ai contatti stretti e a coloro i quali provengono dalla Cina. Diciamo che per i soggetti che non hanno fragilità, che non sono immunocompromessi, la nuova circolare prevede 5 giorni di isolamento dalla prima positività e se non si hanno sintomi da almeno due giorni anche in assenza di tampone antigenico o molecolare alla fine del quinto giorno possono uscire. Anzi, questi soggetti dovessero essere del tutto asintomatici e fare un tampone anche prima della decorrenza del quinto giorno potrebbero uscire liberi. Insomma, invece per i soggetti fragili, per i soggetti immunocompromessi è sempre necessario al quinto giorno fare un tampone di riscontro e di valutazione della positività o della sopraggiunta negatività. Per quanto riguarda il personale sanitario, il caso positivo resta teoricamente in isolamento per 5 giorni ma può fare anche un tampone se ha almeno due giorni, quindi in teoria anche alla fine del secondo giorno, se è del tutto asintomatico, fa un tampone che dovesse risultare negativo, può ritornare al lavoro. Per quanto riguarda i positivi che sono stati nei sette giorni precedenti la positività in Cina, ovviamente provenienti dalla Cina, questi devono fare giustamente al quinto giorno un tampone di riscontro. Una volta usciti questi, soprattutto quelli che non dovessero fare il tampone di riscontro finale, loro devono fino al decimo giorno indossare la mascherina FFP2. Questa procedura, evitare contatti con soggetti a rischio, assembramenti eccetera, naturalmente questa procedura può essere interrotta nel caso in cui uno fa un tampone di riscontro. Per quanto riguarda i contatti stretti, abbiamo già detto che questi devono evitare luoghi affollati, assembramento, portare la mascherina per 5 giorni, mentre per il personale sanitario che ha avuto contatti stretti, loro devono fare quotidianamente un tampone antigenico molecolare per verificare, insomma, fino al quinto giorno per verificare lo stato di negatività. E c'è attenzione anche verso le ultime varianti scoperte, Griffon e Cerberus. Nei prossimi giorni sarà essenziale procedere all'attività di sequenziamento dei tamponi risultati positivi, così da capire se nuove forme del virus si stanno affacciando sullo scenario pandemico. Credo che in questo momento si stia incidendo soprattutto sulla autosorveglianza e ovviamente dopo tre anni su quello che dovrebbe essere, tra virgolette, un abito mentale ormai assunto da parte dei cittadini che in ogni caso devono prestare attenzione, evitare luoghi molto affollati, utilizzare i dispositivi nel caso dovesse essere necessario frequentare un luogo affollato e poi bisogna ancora attendere un po' di giorni per verificare gli effetti di queste nuove eventuali varianti che circolano e che non ci hanno dato ancora, insomma, segnali per cui magari potrebbero essere gli organi competenti costretti a cambiare qualcosa. Grazie a tutti.